come molti fatti prendere si ma è ieri paura di attaccare che qualcuno mi passi davanti io sono un arciere e devo essere protetto dal ci stiamo procedendo ho sempre da ridire oh gli ho buccato la dura pelle da cossadrillo ma nonostante ciò viene a cagarmi il cazzo si va bene sei una maschera di sangue Daniele aia spero che sono l'ultimo con gli altri sei incazzato Daniele perché si è partito con effetti disperbatore si sta impegnando si qua lì stavo e per quello ho mollato tutto hai visto o l'ho mollato tutto spero che ti venga un o l'ho spiammato Rubita avete visto che ho subito spiammato è una persona spiega e ormai lo conosco il mio Patrizio no ma è bellissimo il sim apposta gli tira a freccia per c'è la vita quando quello si gira e gli dice vabbè adesso venga prenditi sei molesto